Sergio Conceicano, tecnico del Porto, ha parlato dopo il successo ottenuto in Champions League contro l'Ipsia, 3 gennaio chiusa parentesi tonda. Abbiamo una grande squadra, con sempre buone soluzioni anche quando incontriamo problemi. André André è entrato per Marega, per esempio, e ha fatto bene. Con quella sostituzione abbiamo dovuto cambiare un po' il nostro sistema, ma la cosa più importante è che siamo rimasti equilibrati. Le situazioni su calcio da fermo sono sempre importanti, soprattutto in gare come questa, dove possono fare la differenza.